Contatore Linky, chiariamo quali sono le leggende e quali le verità. Il contatore Linky è il contatore elettrico intelligente e comunicante distribuito in massa da Enedis nelle case italiane. Questo contatore fa parte di una nuova generazione di contatori elettrici in grado di raccogliere dati sul consumo di energia elettrica. E la protezione dei dati? Nonostante alcuni vantaggi in termini di controllo del consumo e di precisione delle fatture, Il contatore Linky è oggetto di molte controversie. È un affare o una trappola da evitare? Cos'è il contatore Linky? Il contatore Linky in linea generale probabilmente già sapete, forse ne avete anche già installato uno, che il contatore Linky è il contatore elettrico intelligente e comunicante proposto nel 2015 da Enedis, responsabile della rete di distribuzione elettrica in Francia. Installato al posto dei vecchi contatori, il contatore Linky è più intelligente e permette ai suoi beneficiari di gestire efficacemente il loro consumo di energia elettrica grazie a un monitoraggio meticoloso e a una fatturazione, mensile, semestrale, ecc., basata sul consumo effettivo. Come funziona il contatore Linky? Come tutte le apparecchiature intelligenti, il contatore Linky funziona raccogliendo i dati di consumo. Per fornire un indice di consumo giornaliero, i dati trasmessi a Enedis includono. Tra le altre cose, il numero di serie del contatore, la data e l'ora della raccolta, l'energia totale consumata, in WH, la potenza, W, ecc., tutti questi dati vengono trasmessi una volta al giorno a Enedis. È l'accumulo di queste letture che permette di dare un senso a questi dati e di creare una curva di carico che rappresenterà molto precisamente l'evoluzione del vostro consumo energetico. La CNIL, autorità amministrativa francese che si occupa della tutela dei dati personali, impone un limite minimo di 10 minuti tra due misurazioni, limitando così la trasmissione delle informazioni. Sulla base dei dati raccolti, Enedis determina la vostra bolletta dell'energia elettrica. Tutti i dati raccolti rimangono, ovviamente, a disposizione del consumatore in qualsiasi momento nel suo spazio personale su Internet. Un discutibile progresso tecnologico con l'obiettivo di semplificare la vita degli italiani, i contatori Linky vengono gradualmente installati nelle case, non meno di 35 milioni di contatori dovrebbero essere installati in Italia entro la fine del 2021. Tuttavia, questo contatore elettrico di nuova generazione non incontra l'approvazione unanime. Infatti, viene spesso contestato, i suoi detrattori lo accusano di nocere alla salute a tal punto che alcuni italiani rifiutano l'installazione di un contatore Linky nelle loro case. Quali sono i vantaggi del contatore Linky? Nonostante le controversie, i dubbi e le accuse, il contatore Linky ha molti vantaggi. Semplificazione delle procedure relative all energia elettrica Tutti i passaggi relativi alla vostra energia elettrica sono resi più convenienti. Tutto viene fatto a distanza, il che riduce i costi degli interventi tecnici. L'accesso all'energia elettrica in una nuova casa è possibile in meno di 24 ore e nessuno ha bisogno di venire a casa vostra per leggere il contatore elettrico. Inoltre, l'installazione di un contatore Linky a casa vostra avviene in soli 30 minuti. Migliore calcolo della bolletta elettrica con il contatore Linky collegato e intelligente, la bolletta dell'energia elettrica viene calcolata e stabilita direttamente sulla base del consumo effettivo di energia elettrica della casa. Questo mette fine alla bolletta stimata e vi dà una migliore visibilità sul vostro consumo e sulle vostre finanze. Scegliere l'offerta di energia elettrica più adatta alle vostre esigenze sulla base dell'analisi del vostro consumo giornaliero tramite il contatore Linky, Enedis è in grado di offrirvi offerte di energia elettrica che si adattano perfettamente al vostro stile di vita e alle vostre abitudini di consumo. Monitoraggio preciso e continuo del vostro consumo La tecnologia incorporata nel contatore Linky vi permette di seguire il vostro consumo di energia elettrica giorno per giorno, persino ora per ora. Potete impostare degli obiettivi di consumo e ricevere i relativi avvisi, analizzare la relazione tra il tempo e il vostro consumo, o beneficiare di consigli personalizzati dal vostro fornitore di energia elettrica. Polemiche intorno al contatore Linky Gli effetti del misuratore Linky sulla salute contrariamente a ciò che viene talvolta affermato, senza prove, i contatori Linky non generano campi elettromagnetici più elevati rispetto ai contatori di vecchia generazione. Le informazioni non sono trasmesse continuamente, ma solo per alcuni secondi al giorno. La quantità di onde emesse dai contatori Linky è quindi molto bassa. Infatti, il contatore Linky respinge nell'ambiente solo una minima parte di energia sotto forma di onda elettromagnetica irradiata. E non sembra, a prima vista, costituire un pericolo per la salute degli italiani. Proteggere i dati personali nonostante le preoccupazioni degli italiani riguardo alla raccolta dei loro dati personali da parte dei contatori Linky, Enedis garantisce la massima vigilanza sull'uso dei dati personali. E per una buona ragione. Il contatore Linky registra solo il consumo di energia elettrica, espresso in KWH, della famiglia. Quindi, questo è l'unico dato raccolto dai contatori Linky, proprio come vecchi contatori elettrici. Enedis raccoglie solo i dati di consumo complessivo della famiglia nell'arco di una giornata secondo il codice energetico. Questi dati di consumo dettagliati sono raccolti solo se l'utente ha dato il suo consenso. Inoltre, è impossibile per il fornitore di energia accedere al consumo in tempo reale dell'utente attraverso il contatore Linky. Da notare anche che la CNIL controlla le pratiche dei fornitori di energia e garantisce che i vostri dati personali siano rispettati e protetti. Il prezzo del misuratore Linky Il contatore Linky non vi appartiene. Il suo acquisto e la sua installazione sono quindi interamente sostenuti da Enedis. Tutte le spese relative alla sua installazione fanno parte della modernizzazione della rete elettrica e, alla fine, nulla è a carico del cliente. Il contatore Linky è quindi completamente gratuito per voi. È possibile rifiutare l'installazione di un contatore Linky? È importante specificare che non potete rifiutare l'installazione del contatore Linky a casa vostra. Inoltre, a partire dal 2021, la sua installazione sarà obbligatoria. A volte è possibile rifiutare l'installazione del contatore Linky, in particolare con l'aiuto di lettere e modello, ma questo approccio è inutile. È quindi preferibile rispettare questo nuovo obbligo per evitare certi rischi. In effetti, rifiutare il contatore Linky significa esporsi a diversi rischi. L'annullamento del vostro contratto di energia elettrica da parte del vostro fornitore a causa della vostra mancanza di cooperazione, sovrapprezzo per operazioni effettuate con il vecchio contatore, e rese obsolete e molto più semplici dal contatore Linky, grazie a Enedis, il contatore Linky sta arrivando nelle case di tutti, che vi piaccia o no. La maggior parte delle controversie sono infondate e i contatori Linky portano benefici reali ai clienti. La modernizzazione della rete dell'energia elettrica comporta necessariamente contatori intelligenti e comunicanti. CNIL